Continua la fase di discesa dell'inflazione che a marzo cala dello 0,4% su base mensile facendo segnare un più 7,6% anno. Lo rende noto l'Istat, rivedendo al ribasso di un decimo di punto la stima preliminare. Il rallentamento si deve principalmente alla frenata dei prezzi dei beni energetici, in netto calo sia nella componente regolamentata che in quella non regolamentata. Una discesa solo in parte compensata dall'accelerazione dei prezzi di alimentari non lavorati, servizi relativi all'abitazione, tabacchi e servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Dopo la progressione che ha caratterizzato il 2022, l'inflazione di fondo si stabilizza al più 6,3%, mentre i prezzi del carrello della spesa rallentano su base tendenziale, scendendo a più 12,6%. L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a più 5%. Nel primo trimestre l'impatto dell'inflazione è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa rispetto a quelle con livelli di spesa più elevati.